Noo raga guardate qua Che è successo? Assisterei per ore Assisterei davvero per ore Che caspita è? Senti l'audio, senti l'audio, senti l'audio, è veramente allucinante Non decido io raga, non decido io Solo io trovo questi bug, ormai io pure Pensavo che me li andassi a cercare, li facessi io Da quando ha visto come ho giocato a Tai Si è reso conto che non è che me li cerco Mi capitano E da là in poi ha cominciato a capire Raga ve lo giuro, non decido io Non so perché succede, però succede Sempre a me Per me è un meme, cioè davvero io gli bug sia un meme Infatti è una delle serie, le serie, sì delle serie Ho visto YouTube, sono forse addirittura il primo video Che mi ha fatto andare un po' in feed degli short su YouTube Era proprio un video bug, senza un motivo veramente logico Raga che ci posso fare? La tua vita è un bug? Si Perché c'ho tante cose da correggere Solo che più le correggi più ne crei altre La via è come un bug, capito? Il bug è così È un bug, è un bug di valore È un bug, è un bug di valore